Salve ragazzi, un caloroso saluto a tutti i miei iscritti Oggi questo è un brevissimo video, probabilmente di 1-2 minuti In cui oggi appunto, andrò a fare quello che sicuramente voi mi avete chiesto con maggior interesse Ovvero il fatto delle sponsorizzazioni Molti iscritti infatti nei video scrivono mi sponsorizzi Io ho sempre rimandato perché avrei prima o poi fatto un video del genere Quindi chi volesse essere sponsorizzato, io farò il prossimo video in cui farò vedere i canali diciamo amici Ovvero tutti i canali che mi chiederanno di essere sponsorizzati però a tre condizioni Ovviamente chi volesse essere sponsorizzato deve essere iscritto al canale Quindi chi non ha le iscrizioni pubbliche appunto le attivi eventualmente dalle impostazioni di Youtube Deve mettere mi piace sotto questo video e soprattutto deve mettere mi piace al video di Brasile e Paraguay Se per esempio qualcuno è già iscritto e ha già messo mi piace al video di Brasile e Paraguay Perché io so anche chi l'ha visualizzato e chi ha commentato Basti solo che appunto metta mi piace a questo video Per tutti coloro i quali invece vogliono un'eventuale sponsorizzazione E non sono iscritti al canale e passano per caso da questo video Devono essere iscritti al canale, mettere mi piace a questo video e mettere mi piace a quello di Brasile e Paraguay Uno a uno, quello che troverete comunque, quello di cui, quello in cui troverete comunque il video Nella sezione del mio canale, i miei video Noi ci rivediamo al prossimo video Per essere sponsorizzati scrivete, partecipa alla sponsorizzazione nei commenti Un caloroso saluto a tutti dal vostro Silverala Bella ragazzi! Ciao a tutti!